Domenica 10 ottobre viene aggredito un tassista qui in largo Caccia Dominioni perché inavvertitamente ha investito un cagnolino e l'ha ammazzato in pratica. Il tassista viene portato all'ospedale però era già in coma, era già molto molto grave e gli aggressori scappano via. Arriviamo qua in tutti i tv, giornali, giornalisti, fotografi come noi. Ci vengono a raccontare che durante la notte in pratica c'è stata bruciata una macchina che guarda caso era uno di quelli che il giorno prima parlando con la truppa della RAI aveva dichiarato che secondo lui chi erano, quanti erano, insomma aveva un po' testimoniato del fatto. Per noi era un seguito della notizia quindi ci siamo precipitati qua, sono stato il primo a arrivare forse perché ero più vicino, mi sono trovato qui con la macchina bruciata che è al posto di quella di questa grigia adesso e cominciò a fare delle foto alla macchina. All'improvviso si appare, si compare appunto questo tipo che ho conosciuto il giorno prima armato con una scopa in mano, col bastone, col manico della scopa in pratica cominciando a inveire e insultare dicendo di andarmi, di non ho precoglioni, giornalisti avete ronto le scatole, insomma e altre parolacce, adesso è inutile di stare qui a ripetere e mi viene di corsa incontro, addosso in pratica. Solo che a quel punto non lo vivo come un pericolo immediato anche perché avendo lo conosciuto il giorno prima, tra l'altro mi ha dato il suo numero di cellulare il giorno prima, finita la schiacchierata. Sto per girare per praticamente andarmene, andare verso la mia moto quindi visto che questo è agitato me ne vado, cerco di andarmene e questo mi colpisce su una spalla con il manico della scopa con una botta abbastanza forte e poi continuo a menare, andare avanti a pestare con questo manico di scopa. Dopo qualche minuto casco per terra quasi svenuto e nel frattempo mi casca anche la macchina fotografica, mi rompe la macchina fotografica, cioè nella caduta naturalmente si spacca la macchina fotografica e questo si è lontana, io mi rialzo piano, come posso vado alla moto, metto via la borsa della macchina fotografica, rimetto, prendo il cellulare, chiamo la polizia immediatamente raccontando la storia dicendo che sono stato credito, in questo fatto la polizia conosceva già i fatti, era già qui in zona quindi vicina appunto per il fatto del giorno prima e poi rimetto via, provo a andare via e questo si ripresenta con altre tre persone intorno che sono rimaste però un po' lontane, 4-5 metri distante e questo mi aggredisce ancora, viene addosso e comincia a mani nude questa volta, pugni, calci a aggredirmi di nuovo. In quel momento per fortuna arriva la polizia e questi lo prendono, praticamente lo bloccano, lo separano da me e lo portano via, lo portano dentro il portone qui del 4 e lo fanno scappare in mezzo alle case, la polizia poi fa la sua retata, non si preclude il lavoro giusto perché si è stato ingredito una volta, si sta un po' più attenti, comunque voglio dire i fatti del genere vengono seguiti ancora tranquillamente, non lo so se inconsciamente ma penso di sì, quando succedono cose del genere corriamo ancora, si prestificiamo sul posto a seguire a fare il nostro lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.